Ciao, sono Giuseppe De Marco, responsabile dell'area trading in Alfio Bardolla Training Group e volevo cogliere questa occasione per parlarti brevemente di una strategia in particolare, una strategia che ha una caratteristica, è una strategia totalmente meccanica. Apro e chiudo una rapidissima parentesi, giusto per spiegarti la differenza tra strategia meccanica e strategia discrezionale, così che anche tu possa capire qual è il vantaggio di un'operatività totalmente meccanica. Un'operatività meccanica è un'operatività che può mettere in pratica qualsiasi persona a prescindere dall'esperienza che ha, perché è come eseguire una ricetta, cioè in determinati momenti si fa quella determinata cosa ed è sempre la stessa ogni volta. Una strategia discrezionale invece prevede di avere un minimo di esperienza per essere messa in pratica, perché si basa sull'idea che vedo un grafico, in base a quello che vedo decido se e cosa fare. Questa è la grande differenza. È chiaro che per una persona che parte, una persona che inizia, la strategia meccanica è più adatta, perché può essere messa in pratica subito, una volta che si ha un minimo di esperienza e di consapevolezza di dove si va a cliccare sulla piattaforma. Ecco, questa strategia è, diciamo, l'elaborazione di un approccio che io utilizzo sui mercati dal 2007, da quando ho iniziato a fare trading. Prevede di essere applicata sul mercato Forex, e quindi sul mercato dove si cambiano, dove si comprano e si vendono tassi di cambio, e prevede di sfruttare la volatilità che si genera sui grafici in conseguenza del rilascio di una particolare notizia macroeconomica. La strategia, infatti, si chiama post-news, perché prevede appunto di fare le operazioni dopo il rilascio di alcune particolari precise notizie macroeconomiche. È molto interessante perché ha due grossi vantaggi. Il primo, già sostanzialmente, te l'ho detto, e cioè il fatto che è meccanica. Il secondo, ed è il motivo per cui subito mi ha attirato e attratto quando si è trattato di cominciare dal mio punto di vista, è il fatto che sia perfettamente pianificabile. Cioè, voi sapete già il primo del mese quale o quali giorni nel corso del mese è previsto che farete delle operazioni, perché ci si basa unicamente ed esclusivamente su un calendario macroeconomico che ci dice giorno e ora in cui è previsto rilascio della notizia. E noi, quindi, potremmo anche limitare la nostra operatività a quell'unico giorno, a quegli unici due giorni nel mese, fare l'operazione fine. Quindi quando vi dico, ti dico che l'operatività basata su questo tipo di strategia richiede dai 5 ai 15 minuti al mese, è proprio così per due motivi. In primis, perché sono poche operazioni, nel senso che le notizie che normalmente generano un impatto sul grafico sono poche, una, due al mese. Due, perché essendo un'operatività meccanica, tu saprai esattamente cosa devi fare. Non devi fare nessun tipo di analisi, semplicemente è previsto rilascio della notizia, metti in pratica, applichi i parametri, la ricetta della strategia e aspetti l'esito dell'operazione. Credo che sia veramente molto interessante pensare che questa strategia viene spiegata dai coach dell'Alfio Bardola Training Group da settembre 2012. Sono dieci anni che noi spieghiamo questa strategia con questi parametri. Strategia che già ovviamente era stata molto performante anche in precedenza. Ed è interessante farsi un'idea di, ok, ma in questi dieci anni, dal momento in cui abbiamo cominciato a spiegarla, quanto si sarebbe guadagnato mettendo in pratica alla lettera quella famosa ricetta che poi non sono altro che i parametri della strategia. Ecco, la risposta a questa domanda è molto interessante perché ti permette di toccare con mano quanto sarebbe stata ripagata la tua fiducia se ce l'avessi concessa dieci anni fa o qualche tempo fa, perché questi sono esattamente i risultati che avresti ottenuto. Cioè questi non sono risultati dipendenti dalla bravura di chi ha fatto l'operazione, ma semplicemente risultati puri della strategia. Quello che ha ottenuto e avrebbe ottenuto qualsiasi persona che avesse messo in pratica le indicazioni e i parametri della strategia nel corso degli ultimi anni. Se ci spostiamo sul computer mi piacerebbe farti notare come questi sono i risultati della strategia dal primo gennaio 2009 a oggi. Qua puoi vedere quella che è l'equity line, cioè l'andamento di questi quasi 14 anni ormai. E qui c'è l'esito percentuale di ogni anno dal 2009 a oggi, anno dopo anno, quanto avresti guadagnato mettendo in pratica semplicemente due notizie. Quindi 1,5, due operazioni in media al mese. Queste sono le performance di profitto che ti avrebbe generato quel 10 minuti, quarto d'ora di impegno al mese. La cosa che mi faceva particolarmente piacere è che oltre ai corsi, luogo per eccellenza in cui noi insegniamo questa strategia, da maggio-giugno 2020 abbiamo lanciato un master, e cioè un prodotto che tu puoi comprare, seguirne le indicazioni comodamente da casa tua con i tuoi tempi, mandando indietro, rivedendo, riascoltando, prendendo appunti, provando, riascoltando, provando meglio e così via. Ecco, la cosa interessante è vedere che dal maggio del 2020 a oggi, mettendo in pratica quell'unico capitolo dedicato alla strategia post-news, si sarebbe ottenuto un profitto di oltre il 42% in questi circa due anni, dedicando quei famosi 10 minuti al mese. Quindi la cosa bella di questo approccio è che oltre ad essere facile e perfettamente pianificabile, vi permette di avere tanto tempo libero per fare o altre attività di trading o altre attività di investimento. E il dato veramente eccezionale è quello relativo ai primi sette mesi del 2022, perché se torniamo sul computer noi possiamo vedere che questo è il risultato che avresti ottenuto dal primo gennaio 2022 a oggi, limitandoti a mettere in pratica quelle indicazioni, cioè quasi il 30% di profitto in 10 operazioni. Quindi questa è tutta l'operatività del 2022, 10 operazioni, quasi il 30% di profitto. Considera che la media di tempo che ti sarà richiesto per mettere in pratica la strategia in ciascuna operazioni, per mettere a mercato gli ordini, diciamo dai 2 ai 4 minuti, per seguirne l'andamento, facciamo altri 5-10 minuti. Ecco, questo per 10 volte in 7 mesi, 30% di profitto. Mi sembrava una cosa veramente bella da condividere e da farti vivere, sia perché se già tu hai comprato il Master Forex e stai seguendo questa strategia sono risultati che hai già toccato con mano, sia perché magari se senti che il trading è qualcosa che pensi ti possa interessare, ma ritieni che sia troppo lontano o difficile per te, sappi che esistono strategie di questo tipo, molto semplici perché prevedono una ricetta da mettere in pratica, elementari, adatti a qualsiasi persona, anche una persona che parte completamente da zero e i risultati, come hai potuto vedere, non sono di poco conto, perché 30% circa in metà anno è un signor risultato. Poi certo, nel Master, in tutti quelli che sono le nostre attività di formazione, puoi trovare anche altre strategie che richiedono un po' più di tempo da dedicare all'operatività e risultati magari anche migliori. Ho voluto prendere spunto da questa perché, essendo una strategia totalmente meccanica, i risultati sono questi punto, quindi è quello che avresti esattamente guadagnato e quindi mi sembrava veramente, come detto, una cosa bella da condividere per cominciare a farti toccare con mano e magari darti la possibilità di tradurre l'interesse o la curiosità che hai in azione, cioè dire ok, quindi mi stai dicendo che c'è questa strategia, io devo limitarmi a capire cosa devo fare, a saper utilizzare una piattaforma, a capire su un calendario macroeconomico quale giorno e a che ora devo agire, agire, fine, basta, non c'è altro da fare, ebbene sì, non c'è altro da fare, è tutto qua. E questo è il motivo per cui questa strategia ha rappresentato un po', diciamo, la colonna portante dell'area trading almeno fino a due o tre anni fa, perché era quella perfetta per una persona che ne sapesse poco o niente e mi faceva piacere condividere i risultati perché penso che siano veramente stimolanti e diano un senso di positività, di pienezza, soprattutto in un periodo come questo. Io spero di averti incuriosito e spero soprattutto di averti fatto scattare la scintilla per cominciare ad andare a informarti su questo prodotto, Master Online Forex. È un prodotto in cui avrai una valanga di ore di formazione di cui potrai usufruire con domandamenti a casa tua nei tempi e nei modi che vorrai e non ci sarà soltanto questa strategia, ci sono altri approcci meccanici e discrezionali che in base al tempo che avrai da dedicare, questa è la cosa bella del Forex, che si adatta perfettamente alla disponibilità di tempo delle varie persone, ti potranno portare a decuplicare le performance che hai visto relative alla sola strategia post-news. Quindi mi auguro veramente che da questo momento tu senti il desiderio di saperne almeno di più su questo prodotto che ti permetterà di raggiungere la libertà finanziaria e cioè il Master Online in Forex.